Come state? Un saluto ben ritrovati, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto sul logo L, attivate la campanella, è importante, non perdete nulla, un canale in cui si parla di tutto il calcio, calciomercato, notizie, indiscrezioni, infermeria, polemiche, in video di 2-3 minuti massimo, lasciate un like, commentate numerosi qui sotto. Primo acquisto fatto per la prossima stagione per il Milan perché ha firmato Marcos Portiello, portiere che arriverà dall'Atalanta a parametro zero, portiere che Milan ha provato a prendere anche a gennaio ma l'Atalanta addirittura chiedeva 5 milioni di euro nonostante la scadenza imminente, scadenza appunto che sarà il 30 giugno. Portiello arriverà per fare il secondo, ha firmato negli scorsi giorni il suo contratto, che lo regherà al Milan, profilo di esperienza, che sa fare il dodicesimo, quest'anno ha giocato anche 7 partite in Serie A, arriverà da 31 anni, visto che compierà 31 anni il prossimo 10 gennaio del 92. Con la prospettiva di giocare oppure no dipenderà da Meignan, che negli ultimi due stagioni, soprattutto quest'anno, è stato fuori davvero lungo. La gerarchia che ha in mente il Milan per la prossima stagione è Meignan, Sportiello. E il terzo potrebbe essere un giovane, si parla molto di Reveride Sant'Etienne, altro profilo che potrebbe arrivare a parametro zero, ma non è escluso che possa arrivare un altro portiere di esperienza. Come era Mirante, il cui contratto però scade e andrà via, come era Tatarusano, il cui contratto però scade e con ogni probabilità non verrà rinnovato, a meno che lo si voglia tenere per fare il terzo, ma al momento non mi sembra ci siano i presupposti. Dunque, primo acquisto per la prossima stagione ufficiale è Marco Sportiello, che arriva a zero dall'Atalanta e avrà 31 anni. Il prossimo anno partirà come dodicesimo alle spalle di Meignan. Un saluto e alla prossima per altri aggiornamenti. Ciao a tutti!